salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel tale ale eccoci qui oggi con il video sull online di gta 5 allora premetto subito che il video almeno questo primo video che andremo a vedere non è registrato diciamo in live non è registrato in live perché perché come tutti ben sapete ci sono stati diversi problemi con con l'online di gta 5 quindi ci è voluto un po per sistemare i server almeno i primi due giorni sono stati grandissimi problemi adesso sembra almeno sembra che sia tutto sistemato anche se alcuni hanno ancora dei problemi io sto registrando diciamo il commento su questi su queste prime immagini dopo aver fatto un paio di partite nell'online e sembrava essere andato piuttosto bene quindi sembra che dopo un paio di giorni si sia sistemato tutto ma mai direi mai perché poi non ho più riprovato a fare l'accesso quindi non so se adesso sia realmente tutto sistemato comunque vi introduco questo queste prime questi primi minuti del dell'online appunto descrivendovi quello che sono riuscito a fare sostanzialmente la prima volta che appunto come vedete la creazione del personaggio e poi qualcosina qualcosa altro comunque per quanto riguarda la creazione del personaggio adesso vi parlo un po appunto di questo che ho visto nel nell'inizio diciamo di questo gta 5 poi come detto non ho avuto la possibilità di giocarci quindi avevo registrato direttamente solo solo il video perché sostanzialmente provavo a registrare crashava di nuovo crashava di nuovo crashava ho detto vabbè quando riuscirà a partire registrerò solo il filmato e poi ci parlerò più più avanti descrivendo un po quello che sono riuscito a fare comunque come vedete c'è la creazione del personaggio si potrà scegliere in modo un po particolare in realtà l'hanno fatto perché non andremo a scegliere le vere e proprie caratteristiche diciamo direttamente del nostro personaggio ma andremo a scegliere i progenitori quindi i genitori del del nostro personaggio ma ancora ancora più all'origine i nonni paterni e materni quindi sostanzialmente poi arriveremo ad avere le sembianze potremmo scegliere se essere più somiglianti ai nonni più somiglianti ai genitori eccetera eccetera quindi diciamo che un una creazione del personaggio un po particolare un po fuori diciamo dagli schemi classici e sinceramente allora se devo essere onesto non è che mi sia piaciuta tantissimo questo tipo di creazione del personaggio perché in fondo non si può realmente andare a gestire tutte le caratteristiche fisiche tecniche poi la vedo un po come una cosa si particolare magari per variare un po dalla classica creazione ma anche un po direi quasi inutile però non dico totalmente inutile perché perché nell'online come poi vedremo non è strutturato come i classici online dove si entra e si o si fanno deathmatch o gare o missioni eccetera eccetera ma c'è anche una storia tra virgolette così come se stessimo giocando in single player quindi ci sono missioni date dai dai vari personaggi che abbiamo incontrato anche durante gta 5 e quindi questa cosa mi fa pensare che magari non so durante l'arco di qualche missione potremmo incontrare non so i nostri genitori i nostri nonni è l'unica spiegazione che mi potrei dare per il fatto che ci sia appunto la scelta di questi personaggi perché altrimenti avrei preferito sinceramente la possibilità di scegliere il mio personaggio scegliendo appunto i tratti somatici direttamente una volta scelti appunto indirettamente questi tratti somatici possiamo andare allo stile di vita lo stile di vita come vedete ci sono varie caratteristiche da gestire gestire come in ore quotidiane abbiamo sonno amici e famiglia sport allenamento lavoro legale divano feste lavoro illegale e tutto questo va a cambiare come vedete in basso a sinistra la resistenza la mira la forza eccetera eccetera quindi in base alle ore che dedicheremo ad esempio non so a feste avremo un parametro più che si alzerà un parametro che si abbasserà in generale io ho puntato molto sul sonno perché il sonno aumenta un po' quasi tutti i parametri certo togliendo qualche qualche ora alle altre attività il lavoro illegale ad esempio ci fa aumentare le abilità di guida e quindi noi da buoni sportiveggianti dobbiamo avere un'ottima guidabilità e naturalmente queste caratteristiche poi sono quelle basilari ma naturalmente all'interno del gioco verranno migliorate ad esempio se facciamo appugni pian piano aumenterà la forza a forza di guidare aumenterà anche la caratteristica di guida eccetera eccetera poi andremo a modificare l'aspetto quindi non i lineamenti ma come potete vedere i capelli il colore dei capelli barba cappello che all'inizio saranno un paio se non sbaglio occhiali eccetera eccetera ah un'altra cosa che vi dico è che il personaggio che state vedendo non è quello che poi vedremo in gioco e sarà diverso quello che vedremo leggermente diverso diciamo perché appunto con questa caratterizzazione fisica è quasi impossibile ricreare un personaggio simile a quello precedente e perché lo vedremo diverso perché perché questo appunto l'avevo creato il primo giorno che era stato aperto l'online questo era fattibile anche se i server non erano perfettamente funzionanti e poi lo ha cancellato è successo a tantissimi molto probabilmente sarà successo anche alcuni di voi quindi ci sono stati questi tipi di problemi e altra cosa quindi ho dovuto ricreare il personaggio tra l'altro un paio di volte spero sinceramente che quello che ho creato nell'altra partita mi sia rimasto perché se ho perso anche l'altro ho perso un fottio anche perché ho giocato qualche ora quindi era arrivato a livello 8 dopo la creazione del personaggio andiamo diciamo direttamente nella presentazione del gioco che vi lascio godere a presto Grazie a tutti. 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 gps questo perché una volta montato il rilevatore gps potremo ritrovare la nostra auto all'interno della mappa quindi basta andare nel menu di pausa e sarà indicato appunto il nostro veicolo all'interno della mappa poi potremo farlo anche con altri veicoli una volta che compreremo almeno un garage per altri posti e dopo aver messo il rilevatore gps ci facciamo anche l'assicurazione in modo tale che se l'auto ci viene rubata da un altro tipo ci verrà o ripagata o comunque nel caso se viene distrutta ci verrà riconsegnata quindi diciamo che mettiamo un bel gps un'assicurazione sul veicolo e stiamo pace ci sono tantissime cose da dire su questo gioco ragazzi perché come detto io già ho giocato un pochino quindi adesso vi andrò a dire anche qualcosina rispetto alle prime due partite che ho fatto vi sono fatte in live quindi qualcosina adesso vi andrò ad anticipare e devo dire che il multiplayer mi è piaciuto veramente tantissimo ho avuto anche l'occasione di incontrare qualcuno della crew perché come detto non è necessario essere nella lista amici perché quando si fa l'accesso predilige il motore di ricerca l'inserimento in stanze diciamo dove ci sono altri ragazzi della stessa crew così come allo stesso tempo si può fare una partita tra virgolette privata dove far entrare solo ed esclusivamente chi fa parte della tua lista amici o solo esclusivamente chi fa parte della crew e poi più avanti lo faremo quindi avremo occasione di giocare tutti insieme anche se in realtà qualche volta mi è capitato di uscire di botto uscire di botto perché o non tanto perché crashava ma perché perché ogni tanto altri utenti possono cacciarsi dalla partita ma random a me è capitato mentre ero in missioni appena rientravo dalla missione venivo cacciato quindi non so se sia un bug è capitato anche agli altri l'ho letto anche su alcuni forum che c'è questa cosa e sinceramente da un po fastidio perché è random e soprattutto c'è un sistema di reputazione che se tu esci troppe volte durante le missioni ti metterà con persone diciamo della che fanno la stessa cosa tra virgolette li considera scorretti ma se io sto facendo una missione mi caccia non è colpa mia quindi mi è capitato due o tre volte che tra l'altro stavo girando insieme anche alcuni ragazzi della crew e mi sono ritrovato fuori dalla partita quindi ogni tanto c'è ancora qualche piccolo problemino spero che lo sistemino anche questa cosa e per quanto riguarda il resto un'altra cosa che mi è piaciuto è il fatto che si possano fare appunto delle missioni della storia all'interno del multiplayer che siano alcune sono fatte singolarmente nel senso ci saremo solo noi a farle quindi la mappa si svuoterà tra virgolette degli altri personaggi del multiplayer poi una volta finita la missione ci ributterà nella stanza una cosa che non mi è piaciuta però che quando ti ributta nella stanza a me è capitato che mi ha ributtato sempre in stanze diverse non mi ha mai ributtato nella stessa quindi ad esempio se noi siamo nella stessa stanza con degli amici o con delle persone della crew e poi ci andiamo a fare noi una missioncina per conto nostro ci ributterà magari in un'altra stanza quindi questo è un po' non dico che sia un problema però un po' brutto perché magari uno vuole rimanere nella stessa stanza però nel frattempo farsi una partita mentre che ne so gli altri fanno una rapina si fanno un death match perché comunque si può fare un po' di tutto tra l'altro come detto bisogna stare un po' attenti a chi si becca online perché naturalmente appena ti giri ti sparano ovunque quindi bisogna un po' andare con l'occhio io tra l'altro se non sbaglio una volta ho ammazzato anche uno della mia stessa crew ma non mi ero accorto perché stavo uscendo da un supermercato appena rapinato non ci ho fatto caso non ho letto né nome né niente ho sparato ho sparato perché mi avevano già ucciso 4-5 volte ho detto il primo che mi si avvicina lo faccio fuori pazienza abbiate pazienza se capitate ogni tanto e schiopeto due colpi non fa niente per il resto come detto il multiplayer mi piace veramente tanto mi è incuriosito parecchio soprattutto per il fatto che si possono appunto entrare in missioni casuali nel senso che comunque all'interno della mappa ci sono delle zone dove ci sono determinati tipi di missioni ad esempio ci sono dei death match ci sono delle rapine ci sono degli assalti a dei blindati e comunque tante missioni variegate che possono ospitare più giocatori ma più giocatori dipende perché ci possono essere ad esempio missioni per solo due persone missioni per 4-5 persone missioni per 16 persone ad esempio questi più classici death match ci sono delle missioni in cui bisogna ne ho fatto una dove bisognava recuperare un furgone e c'erano due squadre che si contendevano appunto il furgone e queste missioni che si vanno a fare insieme la cosa bella è che la cosa particolare è che il bottino verrà dato a tutti quanti mentre quando si vanno all'interno del mondo di gioco a rapinare delle attività i soldi naturalmente li prende colui che riesce a recuperare la busta poi però c'è la possibilità di dividersi i soldi tramite un menu particolare che vedremo nei primi gameplay qui come detto ancora non ero all'interno del gioco quindi in questo primo video lo sto facendo come introduzione al multiplayer ma dai prossimi saranno tutti live e quindi spaccheremo un po' i culi questo come detto lo volevo fare perché c'erano questi video di introduzione al multiplayer quindi volevo farvi vedere anche questi senza buttarsi subito nei deathmatch nelle gare che vedremo appena possibile e niente per il resto ha un'altra cosa questo magari lo caricherò con una bassa qualità video questo forse dovevo dirlo all'inizio ma magari l'avrò già detto per poterlo uppare il prima possibile quindi vabbè detto questo sicuramente mi sarò scordato qualcosa ma avremo modo di dirlo più più avanti qui avevo provato a fare una gara ma essendo ancora qualche problema di online non è entrato nessuno quindi ero sostanzialmente da solo perché c'erano appunto problemi con i server e vabbè per il resto ragazzi noi allora ci vedremo con i prossimi video di questo online che credo ne arriveranno perché è veramente molto molto divertente continuate a seguirmi perché poi anche su seguitemi mi raccomando ragazzi anche sulla pagina facebook perché per quanto riguarda magari gli incontri della crew degli orari magari ci organizzeremo una volta per fare una partita con quelli della crew farò una partita privata questo quando i server saranno veramente stabili perché se no non si riesce a fare una ceppa seguitemi lì perché sarà probabilmente lo farò solo lì nel senso avviserò per quando ci saranno queste cose quindi in descrizione trovate il link della pagina facebook iscrivetevi anche lì perché per rimanere aggiornati noi come detto ci vediamo con i prossimi video ragazzi qui ho detto questa infarinatura giusto per così per presentarvi questa prima parte del multiplayer dalla prossima vedremo sparatori rapine eccetera eccetera io vi ringrazio per aver seguito questo video mi raccomando allora iscrivetevi anche la pagina facebook per rimanere aggiornati anche sul multiplayer e su partite che organizzeremo con la crew gli sportiveggianti mi raccomando chi è negli sportiveggianti iniziate a spaccare un po di culo in giro perché ci dobbiamo far rispettare mica cotiche ragazzi allora ci vediamo con il prossimo video un saluto a tutti da a colta reale